Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui a questo rapido flash in cui parleremo della quinta edizione Ho in mente per gli inizi di marzo di aprire la playlist riguardante la quinta edizione, il di Next Per farlo però ho bisogno del vostro supporto, perché in questo mio nuovo progetto voglio che sia una playlist completamente interattiva Sotto questo video i vostri commenti, le vostre idee, le vostre prove, qualsiasi cosa riguardante la quinta edizione Vorrei che la scriveste, me la linkaste sulla pagina di facebook, mi inviaste i vostri contenuti E io potrei farci dei video, voglio creare una playlist interattiva con voi, con tutti i vostri contributi In modo che renda questo canale più interattivo con voi Trattando il gioco di ruolo non posso non creare qualcosa che interagisca con le altre persone Visto che il gioco di ruolo è un'aggregazione di idee e di persone che vogliono giocare E nel canale di Agnose in Dragon in Italia non poteva mancare il vostro supporto Come ho fatto un po' trasversalmente per le vostre casse di prestigio Che a parte il primo video, tutti gli altri sono stati decisi da voi Quindi questa sarà una cosa simile, ogni video sarà strutturato nelle vostre richieste In base a tutte le vostre idee Tutto nei commenti qui sotto o sulla pagina facebook Io segnerò tutte le vostre impressioni Mi raccomando, è importante che voi pubblicizzate, spammiate, per usare un termine più brutto Questo video su tutto ciò che conoscete Fodum, pagine di gioco di ruolo, compagnie attive, anche non attive Giocatori di ruolo anche di altre ambientazioni, di altri giochi di ruolo Perché tanto il gioco di ruolo è trasversale, unisce tutti Quindi io stesso gioco ad Agents in Dragon Ma conosco anche tantissimi altri esponenti di altri giochi di ruolo Che non l'hanno mai provato Quindi vi chiedo Pubblicizzate, commenti Fatemi sapere tutte le vostre impressioni In modo che io possa costruire Questa nuova playlist, questo nuovo percorso Che sarà il DD Next Come sempre vi ringrazio Ci vediamo nei commenti E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti